ciao parliamo di un altro modifier che ci era già capitato di usare in qualche lezione precedente time offset serve diciamo a spostare un'animazione quindi questa per esempio dura 57 e quindi ci sono questi fotogrammi quando sono al fotogramma 20 la goccia ha questa forma però con il modifier time offset io posso spostare l'animazione quindi se lo metto per esempio a 10 significa che quando sono il fotogramma 20 in realtà vedo il contenuto del fotogramma 30 andiamo a verificare la goccia in questo momento è fatta così se io disabilito time offset ecco che vedo il vero contenuto del fotogramma 20 mentre invece se vado al fotogramma 30 eccolo qua se riattivo time offset adesso vedo quello del fotogramma 40 e se torno a 20 vediamo che c'è il contenuto che prima era a 30 quindi è un po' come se sommassi questo valore a quel che c'è qua giù può essere comodo appunto per spostare un'animazione soprattutto se abbiamo magari creato un loop e vogliamo che parta in un momento diverso rispetto al loop che abbiamo creato se ad esempio adesso io spostassi questa animazione un po' in qua e gli cancello adesso il modifier e lo duplico proprio per intero come fosse un altro oggetto green pencil adesso ho due gocce che cadono però se alla seconda aggiungo time offset di 20 ecco che hanno due andamenti diversi e una cade in un momento diverso rispetto all'altra posso disattivare keep loop che in pratica significa che quando l'animazione è finita notate non va avanti con il loop lo posso vedere ancora meglio se sposto più avanti di 30 quindi in pratica quando sono a fotogramma zero parte dal fotogramma 30 però poi non ricomincia e quindi rimane ferma invece con keep loop appunto mantiene il loop e è anche interessante questo scala perché se io riduco il numero vedete è come se applicasse una moviola va alla metà più piano se io metto due sto aumentando la velocità quindi questo modifier fa diverse cose contemporaneamente c'è anche la voce custom range nascondo un attimo primo oggetto con custom range io posso anche selezionare solo un pezzo dell'animazione per esempio solo da 1 a 10 e viene ripetuto ovviamente è ripetuto se c'è keep loop solo quel pezzo di animazione quindi magari qua adesso lo rimetto a 0 se metto da 1 a 15 quindi posso andare a selezionare solo certi momenti dell'animazione e quindi vedere solo una parte l'altra cosa interessante che può fare è di cambiare a inverso per esempio e quindi l'animazione procede all'incontrario oppure frame fisso quindi posso scegliere un frame e viene mostrato solo quello una specie di fermo immagine diciamo notate che l'animazione sta proseguendo oppure ping pong che quindi l'animazione va e torna indietro mettiamolo in un frame più avanti quindi a 30 cosa fa arriva 50 e poi torna indietro e quindi anzi vediamo se aggiungo anche custom range per esempio dico vai da 0 a 20 frame offset di 0 e ping pong vedete la goccia scende e risale vediamo se magari 30 ecco scende e risale scende e risale ping pong e catena invece è quello completo diciamo è anche un po più complicato da usare in pratica si possono creare dei segmenti in cui vedete adesso sta facendo solo dal frame 1 al frame 2 magari se qua lo metto da 1 a 15 possiamo notare che prende i primi 15 fotogrammi dell'animazione se metto ripeteli due volte li ripete due volte però poi magari posso aggiungere un altro segmento in cui prendo i fotogrammi dal 30 al 40 e quindi adesso fa due volte il primo segmento e poi i fotogrammi dal 30 al 40 una volta oppure appunto posso utilizzare anche il reverse in uno solo dei segmenti quindi questo mi permette davvero di andare a modificare molto il contenuto diciamo originale di una ripetizione ricordatevi quindi che si chiama time offset ma in realtà è un vero e proprio manipolatore del tempo per le animazioni green pencil con le quali possiamo fare quasi tutto quello che ci serve dal punto di vista di modificarne l'andamento la velocità la posizione il loop e tutto quanto grazie e alla prossima